Uno dei più grandi problemi di noi youtuber è come far tornare le persone sul nostro canale, come convincerle dopo aver visto un video a guardarne un altro e poi un altro ancora invece di abbandonarci. Tra l'altro far affezionare le persone e farle tornare sul canale è uno dei segnali più importanti che possiamo dare a youtube sulla bontà del nostro lavoro ed è fondamentale per la crescita del canale. Ma come fare a far tornare le persone a guardare altri nostri video? Beh la risposta in realtà ce la dà proprio youtube, è un po' nascosta nei meandri dello youtube studio ma l'ho scovata per te e oggi voglio mostrarti come trovare queste informazioni che sono già nel tuo youtube studio e come usarle per avere più pubblico e quindi più visualizzazioni sui tuoi prossimi video. Entra nello youtube studio sezione analytics, clicca in alto la sezione pubblico e vai nella sotto sezione video che fanno crescere il tuo pubblico. In questo box sono elencati i tuoi video che non solo hanno raggiunto un nuovo pubblico quindi hanno fatto scoprire il tuo canale a nuove persone che non ti conoscevano ma sono video che hanno fatto affezionare in qualche modo questo nuovo pubblico perché è già tornato a vedere almeno un altro video sul tuo canale in un giorno diverso. È esattamente quello che stavamo cercando, ci sono dunque dei video sul tuo canale che hanno fatto scoprire il canale a nuove persone e che sono piaciuti così tanto da farle tornare nuovamente a guardare altri video. Dobbiamo assolutamente sfruttare questa informazione, ora vediamo usando il mio canale come esempio come far succedere questa cosa sempre più spesso. Clicca mostra altro per avere ancora più dati a disposizione e se non hai tantissime visualizzazioni in alto a destra allarga il lasso di tempo analizzato a primi 28 giorni così da avere qualche dato più significativo. Qui abbiamo un elenco dei 5 video con il miglior rendimento ovvero che hanno fatto tornare più persone sul tuo canale e 5 video con il peggior rendimento ovvero che sono stati visti da persone che poi hanno abbandonato il canale per sempre. In base ai tuoi dati potresti vedere più o meno video ma puoi comunque fare insieme a me questo ragionamento. Vediamo innanzitutto cosa hanno in comune i video che hanno portato più spettatori di ritorno sul canale. Noto che il video migliore ovvero quello che ha portato più spettatori di ritorno è un video sulla monetizzazione che grazie anche ad altre analisi che ho già fatto ho scoperto essere il vostro argomento preferito perché ci sono sempre dubbi e domande riguardo alla monetizzazione di YouTube. Poi ci sono due video che riguardano novità o funzioni particolari di YouTube, sono video più tecnici dedicati a chi vuole capire a fondo la piattaforma. Infine ci sono due video dedicati direi a chi è agli inizi su YouTube perché parlano di video bruttini come i primi video che tutti noi abbiamo fatto e delle prime cose da fare quando si apre un canale. Osserva anche tu quali sono gli argomenti trattati nei tuoi video migliori in questa tabella e replicali in altri video. Da queste informazioni deduco che per far crescere più velocemente il mio canale devo creare una strategia basata su molti contenuti destinati alla monetizzazione e molti contenuti destinati agli utenti alle prime armi. Inoltre mi sembra chiaro che far scoprire cose nuove alle persone riguardo la loro passione, generare l'effetto wow questo non lo sapevo, è determinante per creare un ricordo indelebile di te e dei tuoi video. Viceversa argomenti troppo specifici sono da evitare perché non aiuterebbero la crescita del mio canale. E lo dimostra anche la tabella con i video peggiori, ovvero quelli visti da persone che non sono più tornate sul mio canale. Ad esempio c'è un video che ho fatto dedicato ai canali destinati ai bambini, il problema è che intanto è un argomento che interessa una piccola fetta del mio pubblico e poi è un argomento che non tratto in tantissimi video, quindi anche chi è interessato non trova tanti video simili sul mio canale e quindi magari decide di abbandonarlo. Ho fatto lo stesso un video su questo argomento per essere utile anche a chi ha un canale destinato ai bambini, questa è una tua scelta, puoi anche fare video di questo tipo sapendo che magari non sono quelli che serviranno alla grande crescita del tuo canale. Ma magari sono video che hanno uno scopo diverso, ad esempio per me questo video serve per la mia attività, all'interno di questo video ho infatti pubblicizzato i miei servizi di consulenza. Ricorda sempre che ogni video del tuo canale può avere uno scopo diverso e un motivo diverso per cui è sul tuo canale, devi solo esserne consapevole e fare scelte ragionate. Andando avanti con l'analisi scopro che altri due video che non hanno portato spettatori ricorrenti sul mio canale sono due video in cui esprimo la mia opinione su chi si sente penalizzato dall'algoritmo. In questi video sostengo la mia tesi che, in due parole, è quella di non dare sempre la colpa a YouTube e all'algoritmo se i risultati non arrivano, ma di lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi. È probabile che una tesi così controversa non sia piaciuta a diverse persone, soprattutto magari a persone che non mi conoscevano, non conoscevano il mio punto di vista e che quindi non sono più tornate. Anche in questo caso sappi che esprimere chiaro e tondo il tuo parere, soprattutto se è un po' controverso, potrebbe non aiutare la crescita del tuo canale, oppure favorire una crescita non sana. Quindi potresti cercare di essere più diplomatico, oppure cercare di evitare argomenti sensibili, oppure continuare ad esprimere la tua opinione, sapendo però che ci possono essere persone in disaccordo. Una volta che sarai riuscito a far tornare le persone a guardare un altro tuo video, devi anche capire come farle rimanere a guardare il video per intero o quasi, e una delle tecniche migliori è quella di scrivere un ottimo script, ovvero una traccia infallibile che mantenga l'attenzione delle persone dall'inizio alla fine. Puoi trovare qui tanti consigli pratici per preparare lo script del tuo prossimo video!